Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Knack per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi Nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua Se lo dici tu Non c'è niente là dietro Scusa eh mi fai passare? Grazie Lo so che non dovrei romperli però giochi ci sono Faccio che sterminarli tutti guardate Aia Non mi devi toccare Colpisco sia i robot Per questo avevo creato dei robot minatori E' molto più semplice scendere a recuperare i reperti se la tua potenza di fuoco è superiore Faccio che colpire sia i robot sia i Gli orchi Scusa Grazie Tanto Victor non mi sta dicendo niente Oh C'è uno dei nostri Va bene Mi sono dedicato alle guardie robot Il concetto è lo stesso Soltanto gli accessori sono un po' diversi C'è un orco là dietro Si sta nascondendo Vai ragazzi Non mi fido di voi Preferisco farvi fuori Allora si scende ancora però qui c'è qualcosa Eh lo sapevo Lo sapevo Cosa abbiamo trovato? Parte di indicatore combo Ok Lo stiamo costruendo eh Allora facciamo che scendere Senza scivolare troppo Ok mentre Si ma mi ha ucciso L'ho detto che dovevo farli fuori sti robot Mi ha ucciso il robot Qui abbiamo già recuperato tutto Si Via Facciamo che picchiara anche il robot E Voila Non c'è niente qua no? Ci sono varie trappole Forse siamo fuori eh Forse siamo fuori O no Qui c'è qualcosa Voi picchiatevi pure tra di voi Perfetto Ho evitato le bombe I due prof però non arrivano Ah io proseguo Da solo Si scende Allora l'assist Se le stanno dando di santa ragione Il robot Ci ha lasciato le penne Ti ho subito vendicato Qui si scende ancora eh Qui c'è una porta Qui là Questo è mio Aia Attenzione a sti attacchi Per quello che preferisco attaccarli dall'alto Perché loro non riescono a colpirmi in questo modo Dove caspita stiamo andando Ciao Victor Abbiamo trovato il rifugio dei goblin Eccolo In effetti Sento puzza di bruciato però eh Ve lo dico già Sento puzza di bruciato Mi stanno dando troppi cristalli gialli eh Ok sti orchi oramai non mi fanno più paura Via Altri materiali Sto diventando sempre più grosso eh Infatti Dai Nooo Sono di nuovo piccolino Non mi piace quando sono così piccolo Perché sono parecchio vulnerabile Allora si scende Aspetta Eccolo Siamo sul lago Capitolo 2 di 4 È scappato subito Dobbiamo trovare altri reperti Più che altro per diventare di nuovo grossi Aia Non mi picchiare Guardate che spettacolari Questi cristalli Wow Mi hanno one shotato Ok Li ho stesi entrambi Ce ne sono due Non ci provare Non ci provare Volevano fregarmi No Si sono fatti esplodere Qui non c'è niente Dobbiamo per forza andare da questa parte Eccoli Partito Oramai però So come affrontarli Io prendo sempre tutti i cristalli gialli Si scivola Oila Non mi aspettavo un attacco del genere Pensavo Usasse l'attacco turbine Invece È partito la carica Allora l'attacco subito Perfetto Risolto Adesso che lo so Non mi fregherà più Ciao ragazzi Aia Non mi picchiate Si scende Eccoli Colpiti e affondati Bravissimi Vai Ne appariranno altri No c'è il professore Che mi sta seguendo Con nonchalance Sconfitto E vedete hanno lo stesso colore Quindi non si sa se Non si sa mai se Attaccano direttamente O lanciano un turbine Oh sentite Facciamo così A posto Altri reperti Questi sono i primi Che vanno Fatti Fuori Bye bye Dai che abbiamo Quasi raggiunto Il villaggio Dei goblin Un arciere Un po' scarso Sto arciere No Questo no invece Sono vivo Per miracolo Sono vivo Per miracolo Ok ragazzi Arciere Eliminato Quello purtroppo Mi ha Colpito Abbattuto In un colpo Solo Ho fatto che Sfruttare Le gemme gialle Forse abbiamo Raggiunto Il villaggio Dei goblin Ci siamo quasi Possiamo Tenere d'occhio Il forte Dei goblin Dallassù Dai E prof Lo sai Magari dovrei Dedicare più tempo A tenermi in forma E meno tempo A inventare Roba come te Dai povero Arnach La fortezza Dei goblin È un vero È un vero mistero Vedo i carri armati Ma non c'è traccia Di grandi impianti Metallurgici I carri Non sono stati Prodotti qui Il cancello è aperto Scendiamo giù A dare un'occhiata Cosa? È l'ora di finirla E tornare a casa Non scopriremo Niente di più Se stiamo Quassù A perdere tempo Io ho già fatto Due più due Ragazzi Lucas Aspetta qui Noi andiamo In ricognizione Nack Veglia su di lui Sicuro che sia prudente Entrare Ci avranno visto arrivare Se non lo fosse Ovviamente Non lo farei Beh avete dei robot Giganti a protezione Rilevo immense Quantità di reperti Laggiù Saranno quelli Razziati all'avamposto O altrove Attenzione Ta 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 Imboscata Io comunque Ho già fatto Due più due Chi siete E che ci fate Nel mio villaggio Hai attaccato Una colonia umana Credevi che Non ci sarebbero State conseguenze Quali conseguenze La conseguenza È che ora Ho un sacco di reperti Pietre solari E altra bella roba E qualche ospite Imprevisto Hanno mandato Solo voi Bastiamo noi Le armi moderne Di questi robot Sono più che sufficienti Questi carri Sono dei macchinari A dir poco Stupefacenti Noi ci domandavamo Dove li ho presi È questo che vuoi sapere Bravo Ma visto il tuo interesse Per le armi Te li farò vedere Più da vicino Attenzione Mamma mia Mamma mia Che potenza Sti robot Victor Un po' Devoluccio Meno male che C'è il rider A proteggerti Che si fa Anak Dobbiamo salvarli Va bene ragazzi Direi che però Per il momento Possiamo terminare Questo episodio Di Nak Qua Gran bel episodio Abbiamo raggiunto Finalmente Il villaggio Dei goblin Ma i nostri amici Sono in pericolo Come sempre ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su Nak Alla prossima Ragazzi Iscrivetevi al canale